Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia e il cartello che sto inquadrando sta ad indicare un'area per il culto religioso, un'area di sosta per la preghiera. Ma non è questo che vi voglio mostrare, vi voglio mostrare in realtà l'architettura. Io già nel Borneo vi avevo parlato che il Borneo assomiglia per tantissimi aspetti alla Russia e anche la parte più indonesiana, ovvero l'isola di Java, ha tantissimi aspetti che assomigliano alla Russia, soprattutto l'architettura religiosa, ma anche la moneta, i soldi. Moltissime parole, moltissime espressioni. Io devo dire che gli aborigeni della giungla del Borneo mi ricordavano tantissimo i russi. Anche la Russia è un paese nel quale la maggior parte delle persone vivono molto isolate, molto di più degli aborigeni. In Russia vi sono delle zone, vi sono villaggi che distano uno dall'altro almeno 300-400 km, isolati da boschi, con i lupi, gli orsi e compagnia bella. Ecco vi mostro questa bellissima inquadratura, siamo in Indonesia, ci sentiamo alla prossima, ve la do io all'Indonesia, ciao a tutti!